allora noi direndo ai tutti della situazione abbiamo sette interventi e poi dobbiamo lasciare eh con la continuazione quindi vi prego dei tempi eh Roberto Rosso, Nicoletta Pirotta, eh Riccardo Rifici, poi Marghe Aferrè, Bertinotti, Gialieni, Cucurese. Ho capito. Questa volta siccome stai qua non è che ti spegniamo proprio ti spariamo Allora io non farò una relazione su ciò di cui normalmente mi occupo sulle pagine di Transform in generale il cuore del dei miei interventi e della mia ricerca sul digitale diciamo così oltre che su come accade a tutti noi su una serie di questioni eh tipo con in quel ventaglio eh su cui per esempio si è espresso Alessandro anche se il suo stile da ricercatore eh è assolutamente inarrivabile. Quello che io eh vorrei dire subito è questo eh che le le tecnologie digitali sono il motore dell'innovazione tecnologica. Oggi quando parliamo del digitale eh non possiamo fare un ragionamento eh sì possiamo farlo e possiamo disperderci all'interno di tutte le filiere in cui si articolano queste tecnologie che essendo pervasive ovviamente eh vanno a investire eh tutti quanti i meanti della formazione sociale ma proprio per questo il tema di cui si tratta quando parliamo dell'innovazione digitale è quello dell'innovazione tecnologica nel suo complesso e quindi uno il motore eh direi il motore fondamentale di quella trasformazione a cui alludeva Alessandro. Diciamo che eh il processo all'innovazione eh digitale come elemento pervasivo e trainante di tutta la trasformazione sociale è affidato anche una sorta di eh eh funzione messianica nel senso che tutte le crisi intrecciate dei sistemi sociali in cui viviamo vengono viste eh come superabili proprio a partire da eh quella che è eh il processo di innovazione. Da questo punto di vista noi abbiamo vissuto la pandemia come un momento in cui la capacità di ricerca di innovazione tecnologica attraverso i vaccini ha rappresentato un momento salvifico anche se contemporaneamente eh ci siamo trovati di fronte da una parte all'appropriazione privata dei profitti di questa ricerca alla divisione del mondo tra chi poteva usufruire e chi non poteva usufruire e da questo punto di vista abbiamo visto tutti i limiti del processo di innovazione contemporaneamente il processo di innovazione eh da una parte assume questo ruolo di motore e determina diciamo questa visione fideistica della sua funzione dall'altra lo abbiamo visto eh all'interno della pandemia ha prodotto reazioni che possiamo chiamare irrazionali complottistiche eccetera ma che hanno in fondo una una loro giustificazione per così dire dentro quella che è appunto il fatto che la nostra società attraversata da questa profonda innovazione vede una polarizzazione non solo eh dei redditi delle della qualità della vita ma soprattutto poi della conoscenza questo credo sia uno degli elementi fondamentali nella mia nella mia eh traccia di lavoro io ho messo il problema della condivisione della conoscenza alla fine evidente che come ci insegna da da molti anni anche eh diciamo un un movimento per la per l'open access eh per la per la per il libero eh accesso alla conoscenza questo è dovrebbe è una condizione per il libero sviluppo dell'individuo sociale tuttavia quello a cui noi ci troviamo di fronte è proprio esattamente il contrario cioè noi non siamo di fronte a una condivisione della conoscenza quale eh la la come dire la digitalizzazione e l'espansione delle reti digitali permetterebbero ma al contrario ci troviamo di fronte a una appropriazione sempre più stretta di questa conoscenza il movimento per eh diciamo la condivisione della conoscenza è un movimento vasto eh ne sono protagonisti eh vasti settori della ricerca scientifica per esempio eh il CERN per dire eh un centro di ricerca eh a livello mondiale è uno dei fautori di questa condivisione della conoscenza tuttavia proprio eh la modificazione della competizione mondiale fa sì che la competizione sulle tecnologie e la conoscenza sia alla base in realtà della eh dello stato di belligeranza continua in cui noi ci troviamo a vivere si tratta eh il tema della guerra che noi stiamo trattando eh ovviamente in queste settimane in questi mesi a partire dalla eh dall'invasione eh dell'Ucraina da parte della Russia ha messo al centro le forme della della guerra io in una serie di articoli eh dell'ultimo periodo ho trattato un po' questo elemento proprio perché le forme della guerra oggi sono delle forme in cui la distinzione tra eh l'aspetto eh diciamo scusate un attimo che controllo il tempo l'aspetto eh eh bellico diretto e quello latente ebbene è un qualcosa che è sempre più sfumato i termini diciamo della sicurezza interna e della sicurezza esterna di un paese di un'alleanza si confondono eh io ho ho fatto negli negli ultimi tre articoli una sintesi molto ristretta di eh basandomi su fonti soprattutto statunitensi perché quelle cinesi non sono in grado di leggerlo se non quando ovviamente vengono tradotte vengono tradotte in inglese in italiano quasi mai praticamente mai no c'è l'ISPI che fa un buon lavoro da questo punto di vista e permette una lettura di diciamo di di documenti strategici eh diciamo che eh i cinesi parlano della del carattere informazionale della guerra attuale e in generale si parla di un un confine incerto sfumato tra apparato civile ed apparato militare si parla di guerra ibrida cioè di quella forma di guerra in cui tutte eh gli elementi di stabilità della formazione sociale avversario o nemica a seconda dello stato di belligeranza diciamo vengono messi in discussione tutte queste tattiche sono sostanzialmente supportate da eh da eh una rete informativa nel senso che la capacità di eh competere con l'avversario dipende ovviamente dalla capacità di reagire diciamo con strumenti più o meno civili più o meno militari a seconda del contesto in funzione eh della quantità di dati che si riescono ad elaborare quindi di conoscenza sul contesto generale su di sé e sull'avversario e dei tempi con cui questa elaborazione avviene ecco questo è da questo punto di vista se noi andiamo a vedere lo sviluppo in generale eh del di quello che io chiamo il dispositivo digitale globale che innerva la formazione sociale bene questo dispositivo oggi è fortemente militarizzato poiché eh più che essere lo strumento è stato ed è per certi versi lo strumento di una connessione globale quindi della globalizzazione ma è contemporaneamente il luogo il terreno e lo strumento per la competizione più a livello più ampio questo è diciamo il l'elemento su cui noi dobbiamo ragionare eh io non diciamo non ho eh non mi soffermo quindi su una serie di eh informazioni che voi potete trovare negli articoli che che ho scritto per transform c'è mh sul sito c'è un'ottima ricerca per autore la mia funziona se mettete prima il cognome del nome comunque il nome o il cognome fate due prove e ci arrivate in generale credo che eh ciò su cui noi dobbiamo riflettere è il ruolo appunto dell'innovazione dentro questa trasformazione continua di quel del sistema eh sociale in cui viviamo e dentro un livello di competizione di scontro che sta crescendo le crisi che noi stiamo vivendo ovviamente sono crisi che sono il frutto da una parte del raggiungimento dei limiti nel rapporto uomo natura diciamo così dall'altra nell'esaurimento quindi delle risorse disponibili nell'orizzonte della della catastrofe climatica che il contesto generale dentro cui viviamo e quindi una competizione eh per risorse sempre più limitate ecco io credo che eh quindi transform ma di là della specializzazione più o meno accentuata di ognuno di noi nel trattare eh nel determinati argomenti su questa problematica dell'innovazione che è centrale nel sistema capitalistico probabilmente dovrebbe eh riuscire a realizzare un progetto di ricerca realizzare degli eventi e realizzare una rete diciamo di ricercatori e di diffusione perché e qui chiudo ovviamente noi abbiamo bisogno anche di citizen science e di scienza dei dei cittadini proprio perché quello che noi oggi facciamo con come transform è ancora poco le reti sociali sono reti abitate da centinaia di milioni miliardi di di persone ognuna delle quali vive in una sua bolla più o meno limitata il nostro obiettivo è rompere questa bolla e sappiamo bene quanto questo è difficile vi ringrazio grazie Grazie.